Nel giro di poche settimane l'ospedale San Salvatore dell'Aquila raddoppierà i propri posti di terapia intensiva, portandoli da 8 a 16, grazie a un investimento misto pubblico-privato di un milione e mezzo di euro. I primi lavori da 850 mila euro sono in pieno svolgimento nell'unità guidata dal primario Franco Marinangeli, che occuperà un piano in più anche con nuovi uffici, spogliatoi, sale riunioni e aule didattiche, su un livello che ha visto il rifacimento di impianti e organizzazione degli spazi. Il punto sui lavori è una delle tappe della prima uscita pubblica all'ospedale del nuovo direttore sanitario per il prossimo triennio, Alfonso Mascitelli, nominato al termine di una reggenza contraddistinta da polemiche politiche. Oltre all'investimento pubblico, ulteriori lavori verranno finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dalle associazioni L'Aquila per la Vita, Vado e Ance per 700 mila euro. Il direttore generale della ASL, Roberto Testa, e il presidente della Fondazione, Domenico Taglieri. I lavori sono in corso, stanno procedendo secondo la tabella di marcia e oggi c'è quest'altra grande manifestazione di solidarietà, siamo qui alla Carispac e devo dire che sin dal mio insediamento le manifestazioni sono state veramente numerose e con grande partecipazione. Quando ci siamo accorti che la realtà più importante per la terapia intensiva era l'Aquila, abbiamo pensato di potenziare immediatamente l'Aquila per poi dedicarci alle altre realtà. Questa nostra iniziativa è stata importante perché ha motivato tante altre realtà. In terapia intensiva avremo 8 posti di letto in più, mentre qui al pronto soccorso avremo questo modulo con 10 posti letto in più. Peraltro questi del pronto soccorso sono posti di subintensiva ma che all'occorrenza, in caso veramente di maxi emergenza, possono essere utilizzati anche come posti di terapia intensiva. Come conferma il primario della terapia intensiva Franco Marinangeli, finalmente all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, addio alle tende, simbolo dell'affollamento di malati covid, delle polemiche e delle difficoltà organizzative durante la seconda ondata dell'autunno 2020. Al loro posto, un nuovo prefabbricato fornito dalla protezione civile è collegato al pronto soccorso con 10 posti letto subintensivi, ma che potranno essere anche potenziati. I lavori quasi conclusi si abbinano alla ristrutturazione del reparto di rianimazione, con un investimento misto pubblico privato di un milione e mezzo di euro che porterà al raddoppio dei posti da 8 a 16. Alla bisogna, pronto anche l'aumento dell'ospedale Covid G8, ora pieno con 12 posti su 12, che può arrivare fino a 40 se ci sarà il personale. Lavori in corso dunque, con una peculiarità. In molti ospedali si è lavorati su strutture lontane, staccate dai reparti principali. Noi abbiamo deciso di lavorare su sistemi integrati, cioè che poi possano essere realmente gestiti con il personale che già c'è, quindi che non ci creino poi successivamente problematiche organizzative.